Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Clash of Clans Allora ragazzi nello scorso episodio abbiamo fatto due attacchi sia da questo villaggio che dall'altro villaggio Allora ragazzi in questo episodio proveremo a vincere queste tre battaglie di questo villaggio e proveremo a guadagnare le risorse Ieri sì purtroppo sto andando full perché ormai ho già finito di upgradeare roba con le desider Perché teoricamente ecco qui il laboratorio siamo messi in queste condizioni Non posso più upgradeare nessuno quindi sono tutti a massima potenza per questo TH Cioè in realtà per questa sala del costruttore Quindi le clouper sono pronte attacchiamo Il villaggio ovviamente è messo sempre a cavoli Allora questo tizio lo spacca tutto qui Potremmo attaccare da questo punto perché sinceramente Noi abbiamo gli aceri che possono insomma addirittura Se è invisibile un po' qua Quindi approfittiamo del fatto che l'attore dell'acere sta impegnato a colpire i giganti Per poterla distruggere Ma andranno gritti gritti nello spacca tutto e andranno a morire Siamo fortuna forse due stelle Sono sì raga due stelle Ma tenere me le due stelle mi vanno per lune Con una forza con una percentuale in più Sì Un acere proprio tanto tra poco muore Invece no ok perfetto La miniera diciamo ci stiamo prendendo E vediamo un po' l'avversario se ci ha fatto più lui Più mare oppure noi Ok è finita la battaglia E vediamo un po' che cosa ha fatto lui invece Quanta percentuale ha fatto? Un 45% Una stella è sempre pronta A farsi prendere Però sinceramente non mi è questo il problema Inoltre ragazzi del mio villaggio Insomma è tutto main maxato Più o meno Mi mancano ancora un bel po' di roba Solamente i cannoni E le miniere Le bombe E poi non è rimasto più niente Qui gemmiamo Per farli un po' più veloce E facciamo il secondo attacco Questa è una sala dei costruttori A livello sicuramente 4 Allora dove potremo attaccare? Là in mezzo di sicuro ci saranno tante di quelle bombe Ma veramente assai Giochiamo gli aceri per prima cosa Poi ora giochiamo i giganti Perché così Già ciò che stavano distruggendo prima Cioè ovviamente nel laboratorio Gli aceri avrebbero potuti aiutare i giganti A distruggere le difese Perfetto così Che una stella lì ce la siamo guadagnata Ok Cioè ci basta solamente che forse riescono a distruggere la Tesla Oppure il deposito Perfetto Due stelle anche in questo villaggio Intanto lì la cere sta Ancora distruggendo il deposito Inutilmente perché tanto in realtà fa un po' di percentuali Però non è che ci serve molto Infatti è morto Comunque ragazzi consigliatemi questo sotto nei commenti Cosa volete nel prossimo episodio Intanto qua Pensate che vi è ancora finito di attaccare Intanto qua ce l'abbiamo fatta e purtroppo non possiamo più guadagnare elisir Perché siamo full e inoltre non ho niente per poter spendere con il visir Però intanto miglioriamo un'altra volta le mura Vediamo un pochino che cosa posso upgradeare Ecco la prima mina Così ce la togliamo Chi è questo? Allora c'ha Nel doppio cannone in upgrade Quindi non mi dovrebbe dare fastidio Quindi giochiamo Ne avevamo fatto prima Ora Che gli aceri si Ecco infatti Un secondo dopo E gli aceri sarebbero potuti morire due o tre Forse questa facciamo tre stelle Non ne sono proprio sicuro Però sinceramente A tentare non muoce di fare tre stelle Però le realtà sono in upgrade Quindi vediamo un po' Se riescono a distruggermela Sì ragazzi GG Tre colori Tre stelle Siamo riusciti a distruggere la Tesla Con una fortuna incredibile Perfetto Abbiamo vinto Questa volta dovremmo averla per forza vinto Perché abbiamo fatto tre coloni addirittura 39% Non abbiamo guadagnato nient'altro Vabbè ragazzi Io direi che questo video è tutto Spero che comunque il video vi sia piaciuto Fatemi sapere qui sotto nei commenti Cosa volete nel prossimo episodio Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi